Sono ormai passati i tempi in cui occorreva talvolta prendere il proprio numero per entrare a fare shopping a pezzi stracciati, meno soldi nelle tasche degli italiani ed un numero sempre crescente di pre-saldi che i consumatori ricevono anche tramite sms o email con sconti fino al 60% ne riducono e non di poco il consueto appeal. Che non sia la ricetta contro la crisi lo sanno anche i rappresentanti delle associazioni dei commercianti lucchesi ma tant'è sono in molti ad auspicarsi buoni incassi. Guardando ai consumatori, AdiConsum segnala 10 buone regole per non farsi fregare in periodo di saldi. Vediamole. Prima di tutto controllate bene che sull'oggetto in saldo sia riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Difidate degli sconti superiori al 50-60%. Fate attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto. Non fermatevi al primo negozio controllando lo stesso capo in diverse attività. È bene verificare che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio. Tenete a mente che i negozianti sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici, difidate dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce. Per chi vuole fare regali faccia attenzione, perché si può cambiare solo ed esclusivamente la merce difettosa che deve essere riconsegnata al commerciante entro due mesi dalla scoperta del difetto. Non si può sostituire la merce se avete cambiato idea sul colore o sul modello. È bene conservare sempre lo scontrino per poter eventualmente cambiare la merce difettosa. Ed infine, qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale. È un vostro diritto.